Ciao a tutti! Io sono Viviana Bottaro e io sono Sara Battaglia, campionessi italiani, campionessi d'Europa e campionessi del mondo di karate. Anche noi sosteniamo il progetto Vivere da Sportivi, perché lo sport a noi ha insegnato valori importanti, come la determinazione per realizzare i nostri sogni. Ma anche il rispetto per l'avversario, perché come è successo a noi, il tuo avversario può diventare anche la tua più grande amica. Ciao a tutti!